Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Siamo qui con League of Legends Ci andiamo a fare una partitonzola Mettiamo sempre supporto e inferiore E andiamo a trovare una partita Io spero che anche questo gioco vi possa piacere Perché a me piace veramente tanto Ve l'ho già detto nelle altre mie partite Mamma mia Mi fa un po' male il sedere Perché sto sulla sedia tutto il giorno al lavoro Poi arrivo qui e mi rimetto sulla sedia E eccola là Può essere un po' problematico Non so come facessi prima che giocavo tutta la notte Adesso come vedete non salgo tantissimo di livello Perché gioco poco Cioè faccio tipo una partita al giorno Tempo stimato 57 Quindi abbastanza poco Accettiamo Sicuramente troppo forte Supporto Buono Buono Posizione assegnata Supporto Ci piace Ci piace Allora Dichiara il campione Dichiara il campione Io vi volevo Appunto Portare gameplay Con varie persone Quindi Andremo su Blitz E ci andiamo A levare Chi è che ci sta tanto sulle scatole Sicuramente uno come Nautilus Però anche uno come Trash Nautilus si fa tankoso La fine Leona Banniamo Leona Poi mi voglio anche rifare un bel gameplay con Leona Perché Tanto che non gioco con Leona Vedete Nautilus hanno bannato loro Quindi Perfetto Mundo Loro Vanno subito l'ok Vediamo le scelte dell'altra Squadra Twister Fade E Morgana Io confermo Non ricordo se di Blitz Blitzcrank Io mi ricordavo di avere Una screen di Blitzcrank Quello con il pugile Boh non lo so che è successo Non c'è proprio più Mi ricordavo di avere Blitzcrank Quello pugile Però non mi ricordo Non c'è Quindi Boh Non so Non tornare a giocare Boh Chi se l'hanno fatto Comunque Chi se ne importa Chi se ne importa Tanti di cuori Katrin e Morgana But Katrin Bella rottura Perché c'ha Un raggio molto ampio Però vabbè Dobbiamo Cercare di Di Tancare In verità dobbiamo cercare Di romper chi è Non dico cosa Allora Voglio vedere Una cosa Su Blitz Blitz Che è un po' che Non gioco con Blitz Andiamo a vedere Che dicono Sul mapa fire Ogni tanto lo uso Giusto così un attimo Per Va bene Ah infatti Mi ricordavo Che Dovevo iniziare Con Con l'elmettino Con l'elmettino Oh Guardate Traverso un po' La saliva Non c'è manco l'acqua Vi piacciono Le mie super cuffie Con lo scotch Quando è che Mi arrivano Le nuove Vediamo un attimo Su Amazon Questo periodo Amazon Non è rallentato di più Con il covid Consegnato oggi Consegnato oggi Consegnato oggi Non l'ho guardato Che doveva arrivare Mannaggia Non c'è la nostra fase Un po' rosico Doveva arrivare Tipo Il 4 Il 5 Consegnato oggi E Non avendolo guardato Non sono passato prima A ritirarlo dal portiere Molto bene Vabbè Domani avremo Il nostro paio Di buffie nuove Poi vi farò vedere Farò un video Sul primo canale Così Metto il link In descrizione Nel primo canale Allora Quanto ci mettiamo Per caricare Guardate oggi I millisecondi Rispetto all'ultimo Gameplay L'ultimo gameplay Andava sopra I 300 Oggi i 37 Non so come ha fatto A giocare Quella partita Quindi Si è iscritto Al tuo canale Madonna il nome è strano Che nome è strano Sul primo canale Cioè io ho due canali Piccolissimi Se Se conoscete anche il primo Lo sapete Però sul primo canale Nell'ultimo Mese Diciamo Negli ultimi due mesi E Cioè È stata Cioè avevo tipo 126 130 iscritti Una cosa del genere Sto a 500 Sono pochi Di che stiamo parlando Però Comunque Non male Allora Loro stanno là Quindi Io posso mettere Qui Non mi dite Che il rush Sta È ferma No No La magia Mi anima Balla Balla va Oh Che deficiente Sono Vabbè Basta ridere Mone Arte Mone Arte Don't play Good Np Già che parte Con Devo provare Ash E poi Sta fermo Così Mi fa Leggermente Incazzare Ah Bella botta Che mi hanno dato Ciao 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 Della Segretaria Ecco Ecco L'ultimo Sangue Non nostro Che Io lo volevo prendere Giuro L'ho L'ho lisciato L'ho lisciato L'ho lisciato Bene Bene Ma non ci credo Ma si sono resi così Ma dai GG non è cattiera non è che vi posso fare un gameplay così andiamo sempre sul supporto inferiore e riproporremo Blitzcrank perché non l'abbiamo praticamente giocato come avete visto con Blitzcrank non è che sono proprio fortissimo però proviamo a cavarcela insomma, però ci proviamo ci proviamo stima ancora più basso 0.48 proteggio aggregato contenuto dei danni e delle uccisioni guadagno questa che è la controlla della mappa voi vedete mi hanno messo tempo di gioco nella stagione 2020 21 ore rapporto uccisioni molti per la stagione 2020 vabbè rapporto stagioni cioè uccisioni ma di che stiamo parlando ok mi danno il supporto molto bene andiamo a riprendere Blitz perfetto banniamo Leona set bain e bain è un'altra che scassa veramente tanto Fitz no Lux Jax mi hanno bannato Blitz mi hanno bannato Blitz e adesso vediamo chi possiamo prendere io ho bannato Leona vaffan bene se no prendevo Leona minute sunt non 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 noi Allora ragioniamo un attimo su chi prendere Vabbè diciamo che l'hanno voluta loro Prendiamo il nostro main in questo periodo E vi beccate un'altra partita con Sona Mi dispiace ma Io ci avevo provato a giocare Blitz Me l'hanno bannato Noi abbiamo contro Ash E Brand sicuramente Brand come support è un rompipalle Scusate la parola ma è così A meno che non viene Ecco ma Secondo me è più Brand Quindi Volibear Tempesta del Nord Nocturre Leggerito Ecco Ash e Brand contro Timo Warwick Ferale molto bello Vegard il Grigio bellissimo stupendo Miss Fortune e Sonar Cape Navigare il Grigio me lo volevo prendere Infatti mi ricordo ai tempi Non penso di averlo preso poi alla fine Poi alla fine ste skin comunque costicchiavano Quindi costicchiano ancora Forse oggi costano ancora di più Sonar Kid costa un fattivo In verità c'è una zona che costa ancora di più Non mi ricordo bene come si chiama Sempre tipo quella con il suo alma Troppo futuristica non mi piace La volevo prendere perché è tipo Un aspetto ultra leggendario Quelli vecchissimi Però sono sincero Non mi piace proprio Cioè troppo futuristica Mi piace molto di più Ecco una skin tipo del genere Magari la fai fatta un po' meglio ai giorni d'oggi Perché questa è molto molto vecchia Però C'ha stile Se fai un Baker il Grigio rivisitato Lo compro subito L'attesa L'attesa Allora ricapitiamo Quando ci ho giocato con Miss Fortune ieri? Ma forse l'ho solo visto un gameplay su Twitch Scusate Questa è la stanchezza Che non mi va nemmeno parlare Mamma mia Dovrei fare i miei gameplay Tipo non lo so Quando sono un po' più sveglio Mi rendo conto Però Ho solo questo tempo Siccome ho deciso di pubblicare un video al giorno Sul secondo canale Mi ci sto impegnando Stavolta mi ci sto veramente impegnando Non sono mai stato così tanto serio Tante volte ho detto pubblico un gameplay al giorno Pubblico un gameplay al giorno Poi passavano messe senza pubblicazioni Questa volta sto cercando di riuscire E ho trovato il metodo Nel senso che faccio tutti i long play senza tagli Perché fare gameplay articolati con tagli su giochi Quindi da una parte è figo Dall'altra ti comporta troppo tempo Non gliela posso fare E quindi così facendo riesco a portare un video al giorno Magari non saranno ultra qualitativi Però a chi piacciono questi giochi Cioè tipo io me li guardo i long play Perché se c'è un long play di lol Me lo vedo Come mi vedo una diretta Magari di 3-4 ore su un gioco come questo Mi vedo anche un long play Fanno Anzi molte volte Mi piacciono anche di più i long play Perché Ti danno quel qualcosina in più Non ti fanno finire il tutto Andiamo subito Ho ho Devo tracciare No Siamo partiti male Va bene Come siamo partiti di merda Oh Ho mai rotto il cazzo però Vabbè Io non so che cosa Boh Spiegate che cosa Ash Io non so che Oh Ma che davvero Cioè questo non la sa giocare bene di più Vabbè Io non so come giocare contro C2 Non so come giocare contro C2 Vabbè, mo mi concentro un attimo Ci stanno a mettere un po' le corde Per la prima volta mi trovo veramente in difficoltà Con tutto che sto giocando col mio main Cioè, oh Porca miseriaccia Vado a mangiare subito il biscotto Purtroppo Cioè, mi hanno messo in brutta condizione Vittaccio vostro Ma Ash come fa? Cioè, boh O hanno cambiato qualcosa di Ash O l'hanno fatto un po' più forte Cioè qualcosa Che non mi sta quadrando Perché mi riesce a prendere sempre pure dietro ai minion Senti Facciamo così Facciamo così Ok Bravo Bravissimo Che palle Grazie a zero Oh Ok Ok diciamo che sta andando Abbastanza bene Mi sembra ero riammotorito un attimo Ok 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 Ecco queste sono le cose che odio perchè adesso io rischio di morirci Che contro Lui che comunque non sono male Io rischio veramente di morirci Perchè lui ha preso e se ne è andato Non va tanto bene così E dai Ecco Ecco Io non devo andare in base Mi spiace zio ma devo andare in base Ok Ok Ci prendiamo 1,2,1 E il calicetto Perfetto No No Attento Attento Ok Più di così Potevo far poco Ok Ok Ho finito completamente il mana Quindi Non è una gran cosa Guarda Questa strombolata Questa strombolata Che avete fatto Poi sia pure finito l'ultimo Per far sta cavolata Mamma mia Segniamo che non ci sono Anzi Re Ok GG Molto bravo Adesso Ci andiamo a ricaricare Il mana Mentre lo sono via Peccato per quella cavolata Che ho fatto all'inizio Perchè adesso Non stiamo giocando male Ecco Non stiamo giocando molto male Ok ok allora non sta andando male perfetto dobbiamo farci recuperare un po' il mana ok 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 non sta giocando male nemmeno la mia compagnia anzi anzi ok buon lavoro signori buon lavoro io adesso devo andare sicuramente a comprare ma prima ok facciamo fare un altro stack alla torre e poi andiamo a comprare con 2000 non compriamo male via allora prendiamoci questo lo chiudo questo lo chiudo e basta e basta via arrivo non sto giocando male non vi lamentate ho iniziato male ma mi potete dire io sia giocando tanto male dai perfetto una la mettiamo qua vabbè ci ho provato l'ho tenuta in vita l'ho tenuta in vita il più che potevo io ho fatto fa una tre precisione se non mi sacrificavo non la faceva allora diamo così e torniamo dalla nostra amichetta ok ok non sta andando male per niente non sta andando male per niente adesso devo giocare sicuramente un po' safe perché lui è tornato indietro però il nostro compagno 10-0 eh cioè non male ora andatevi sta attento perché io ti butto giù eh te lo dico te lo dico uno contro uno ti spacco ok ok molto bene andiamo su torre abbiamo distrutto la prima torre si ti butto 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 andiamo a spaccare ok ok poi non mi dite che non aiuto ok ok perfetto 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 ok ok non male non male non male non male non mi sembra stiamo giocando male eh non mi sembra stiamo giocando male per niente ok loro vanno lì io devo stare un po' attento eh vabbè eh vabbè l'ho voluta io l'ho voluta io sta morte no no ci rimani ci rimani sta attento grande ce l'ho fatta ce l'ho fatta grandissimo vicar eh io ho fatto un po' una bella cavolata dopo ci prendiamo eh il terrore dei lich c'è credo proprio il terrore dei lich nooo c'è rimasta molto bene ok curiamo curiamo ancora bam su torre andiamo su torre molto bene molto bene molto bene signori stiamo giocando discretamente seguiamo il nostro ad carry oh per salvare l'ad carry sto a fare un po' di cavolate eh molto bene molto bene ok andiamo pure con questa torre dai 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 passassiamo 8 29 se mi davi una mano ce la facevamo mannaggia teo diamo in base diamoci un altro 30 di potere magico e andiamo aiutare i nostri amici i nostri begli alleati eeeh 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 eccolo qua ecco voli stanno tutti qua stanno tutti qua stanno tutti qua bravi bravi complimenti complimenti bravi ci siete forti eeeh 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 perfetto Potrei rischiare Con questa scelta Ok Perfetto Bella Bella Beh sicuramente Stratega Mettiamogli Molto bravo Miss Fortune Ok Ne frega di niente fondamentalmente Andiamo con GG 50 essenze blu Comunque ha un compagno Più piaciuto giocare con me Voglio guardo sempre sui dettagli avanzati Quanto ho curato Ma manco tanto Pensavo di più Pensavo di più Ok ok Signori io spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse pollice in su Commentate Condividete E se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Andate anche a vedere il mio primo canale Che non parla tanto di Videogiochi Ma parla di tecnologia Di viaggi Comunque ci stanno un po' di cose Quindi vi metto il link in descrizione Spero che magari un'occhiata ce l'avano andata a dare Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima